Musica Bella ragazzi sono Darkest Beppe Benvenuti nel mio canale Oggi siamo qui su FIFA 15 E siamo qui con un altro pack O-P-Nig L'obiettivo è sempre trovare Un tozzo che spacca i culi E direi subito che possiamo incominciare La registrazione tra 3, 2 Aspettate Ho sbagliato Ok 3, 2, 1 Tac Siamo qui Non c'ho più voce Allora vediamo un po' ragazzi Riusciamo a trovare qualcuno di forte Non più che altro forte Più che altro che costi bene Perché Purtroppo Il giocatore Manet Che avevo trovato nello scorso video Non riesco a venderlo Non riesco a venderlo Perché ce ne sono troppi in giro Pensavo di essere stato uno dei pochi a trovarlo Invece non è così Perché a quanto vedo su internet I toti I toti Come cazzo si chiamano Stanno uscendo a tutti Perciò ce ne sono molti sul mercato E molto probabilmente Non Sarà un'impresa a venderli Ecco Pensavo che era più difficile Trovarli Invece A quanto ho visto su internet L'unico sfigato Ad averne trovato uno Per adesso sono io Gli altri ne trovavano Cinque a botta Perciò E vabbè Dai vediamo un po' Se riusciamo a raccattarci Qualche spicce Soprattutto se poi Riusciremo Se dovessimo Trovarlo Di riuscire a venderlo Perché Qua la situazione Dall'anno scorso È molto diversa Perché se trovavi Un tot Un tot Come cazzo Si chiamano L'anno scorso Non riuscivi a vendere Molto in fretta Perché Lo facevi partire Per esempio Da 150 E Vabbè Poi decidevano loro Il prezzo Invece qua Adesso il prezzo È prestabilito E non se lo caga nessuno Mannaggia A quello stronzo Del bastardo Che Vabbè Dai vediamo Vediamo Magari la fortuna Ci gira anche a noi Visto che Ultimamente Siamo fortunati E vediamo 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 È l'unico giocatore Di merda Del Bayern Monaco L'ho preso io No Però qualcosa Qualcosa di vicente Non chiedo Io non chiedo tanto Ma qualcosa Di decente Vabbè Vi θαgentleño Detta qualcosa Di decente Stato Cosa Da merda Dai 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 Sanchez Nanj L Nigeria Nelson Sanchez Starocco Ragazzi Manco Lo originale Che non vale Un cazzo No na Sanchez Starocco Che non vale Un cazzo Ancora di più Eh sì sì Vediamo 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 Niente Neanche un giocatore raro Teniamoci le forme fisiche ma Non si sa mai Teniamoci questi Questo scartiamo che era pure Della squadra della settimana Attenzione Toz in arrivo Ero Mamma mia che merda Mamma mia che merda Che merdaio Che merdaio Che merdaio Che merdaio Attenzione Toz 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 Siamo il secondo raga Siamo il secondo raga E penso proprio Che questo viva primi ci sia L'era detto Abbiamo a disposizione 57 mila crediti Perché non voglio scendere altrettanto Perché sennò sono altamente fottuto Perché so So sicuro che non troverò Niente Perciò Attenzione Toz 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 No 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 non ci credo Due Tots in un pacchetto Due Tots in un pacchetto Sì Ultimamente raga sono troppo fortunato Ma veramente troppo Ho trovato per il momento Tre Tre Tots A quali in un pacchetto ce n'erano due E non per quello riesco a rinunciarmi No 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 Non ci posso Non ci posso credere Non ci posso credere Non ci posso credere